Noi abbiamo creduto sempre che il gruppo Giona è una risposta alle tematiche e alle condizioni di una società come quella che stiamo vivendo in questo periodo. Per cui non poteva esserci migliore risposta se non la proposta di un gruppo di lavoro come il gruppo Giona che intervengono costantemente, immediatamente, su segnalazione dei cittadini presso il comando di Polizia Municipale attraverso i loro mezzi civetta, macchine e moto, in borghese, armati per qualunque evenienza. E questo credo che i risultati siano e sarà oggetto anche di una valutazione nella prossima conferenza stampa dove elencheremo gli interventi ripetuti e continui del gruppo Giona rispetto alla tematica cassa popolare per evitare coloro che occupano abusivamente le case, la tematica dello spaccio della droga quindi nei luoghi meno vivibili della città dove per via del degrado insiste questo spaccio di droga e lì noi interveniamo anche in modo puntuale. Questo accade anche nei luoghi meno sicuri della città dove prevalentemente una zona non è illuminata oppure vi è uno spazio dove si annidano situazioni poco chiare. Ecco, il gruppo Giona è sempre lì, dietro l'angolo, al tenere, ad intervenire per sventare ogni tipo di reato. Questo per quanto ci riguarda riteniamo che sia l'elemento essenziale che cammina al passo con i tempi.